Tre cose solamente me non grado, le quali posso non ben men fornire, ciò è la donna, la taverna e il dado. Esse mi fanno il corriglietto sentire, ma sì me le conviene usar di rado, che la mia borsa mi mette a mentire. E quando mi soviene tutto, mi sbrado chi perdo per moneta e mi desire, e dico dato l'isia d'una lancia ciò a mi padre, che mi tiene sì magro chi tornare senza logro di Francia fargli cacciare un dinai di man, seria più agro la man. Che si dà la Pasqua, che far cacciare la gru ad un bozzagro. Ottimo. È granissimo.